residente non domiciliato come funziona il non dom inglese il res non dom inglese e perché è tanto utilizzato ed è stato tanto utilizzato nel corso della storia tant'è che qui adesso nel 2023 oggi esiste una diatriba in corso che è quella dell'abolizione c'è chi volebbe abolire questa regola perché si dice che coloro che la utilizzano sarebbero abusando o sarebbero evadendo le imposte e i taxpayers locali cioè i londinesi gli inglesi in generale non sono affatto contenti ma ci torniamo alla fine cerchiamo invece adesso di capire come funziona la regola del res non dom perché sfrutta il concetto di domicilio e di permanent home io posso essere un res non dom se ho una permanent home abroad fuori cioè dal regno unito che è un concetto molto complicato per noi da comprendere che facciamo riferimento a codice civile qui la commolo invece ha un'elasticità tale per cui è possibile utilizzare questa regola con una certa semplicità quindi si sfrutta il concetto della permanent home cioè io quando sono un residente non domiciliato la residenza in inghilterra ma il mio domicilio o la mia permanent home è in un altro paese cercheremo di fare degli esempi da qui a breve per farti capire esattamente che cosa vuol dire qual è il vantaggio principale del res non dom è quello della remittance basis o meglio quella del to be tax on remittance basis che cosa vuol dire che tutto quello che io non rimetto all'interno di un conto corrente tutto il mio income tutto il mio reddito tutto il mio reddito la mia forma di income può essere un investimento può essere l'alienazione di un bene immobile può essere un dividendo che arriva dall'estero può essere un interesse su un investimento che ho fatto fuori dai confini del regno unito se non lo rimetto all'interno di un conto corrente britannico non è tassato la legge in realtà prevede sia la remissione su un conto corrente bancario che in termini più larghi anche lo spendere quel denaro all'interno del regno unito infatti si parla di clean capital è sempre bene avere ben separato quello che vuoi far rientrare nel paniere della remittance da quello che invece deve rimanerne fuori perché il fisco deve essere in grado in ogni momento di contare esattamente quanti centesimi hai fatto rientrare e quindi che cosa non è clean da quello che invece hai lasciato all'estero che invece appunto è clean un'altra caratteristica del res non dom è che ha una durata limitata non dura infatti per sempre soprattutto l'agevolazione è gratuita per i primi sette anni cioè lo metti in dichiarazione fondamentalmente e fleghi on a remittance basis e in quel caso non sei tassato e non paghi nessun tipo di fee a partire dal settimo anno in poi si paga invece una flat di 30 mila pound per anno a partire dal quattordicesimo anno questa fee arriva a 60 mila sterline certo come dire è comunque vantaggioso perché chi lo applica molto spesso a milioni di euro pensa un po a quello che succede in italia con la legge ronaldo quindi il neoresidente che si sposta dall'estero in italia milionario potrà pagare soltanto 100 mila euro flat ma tutti i redditi che vengono prodotti all'estero in realtà non sono tassati quindi in realtà l'italia si è ispirata al res non dom nella famosissima legge ronaldo cerchiamo però di fare allora a questo punto due esempi perché esistono due tipologie di domicili qui all'interno della legge inglese del regno unito cioè il domicile by choice cioè il domicilio per scelta e il domicilio by birth cioè per nascita facciamo due esempi prendiamo john che è canadese ha vissuto tutta quanta la sua vita in canada a un certo punto della sua vita decide di ritirarsi a vivere in regno unito non credo per via del tempo che tra canada e uk immagino che il tempo sia più o meno lo stesso ma per mille motivi diciamo che si è innamorato di una ragazza più giovane di lui e ha deciso di trasferirsi e rimanere a vivere in inghilterra ebbene john può decidere di lasciare il suo domicilio in canada e quindi può lasciare una permanent home perché ci ha vissuto perché ce l'ha di proprietà da quando è nato per mille motivi tecnici può decidere di avere una permanent home questo fa di lui un rest non dom perché è residente ai fini fiscali ma il suo domicilio all'estero questo vuol dire che tutta la sua tipologia di income canadese accumulata fino ad oggi se non rimessa all'interno di un conto corrente inglese non verrà tassato e lo ribadisco questo vale anche per un employment income per esempio john potrebbe pensare di mantenere un reddito da lavoro dipendente perché con lo smart working è possibile lavorare a distanza quello stipendio sarebbe tassato soltanto in canada se john avesse delle società dalle quali derivare dividendi in canada anche quel dividendo se non rimesso all'interno di un conto corrente bancario inglese non sarebbe tassato quindi come dire può può applicare questa agevolazione chi invece ha più difficoltà ad applicare questa agevolazione è william william è nato nel regno unito quindi potrebbe essere irlanda del nord scozia galles o inghilterra raggiunta l'età lavorativa william abbandona l'inghilterra perché lavora per una banca di investimenti che lo porta in giro per il mondo a questo punto william seguirà di anno in anno gli spostamenti in pretesi o in qualche modo impostati resi obbligatori dalla banca per seguire degli investimenti per degli spostamenti personali per mille motivi diciamo che william nel corso di 30 anni della sua attività lavorativa cambia numerose giurisdizioni ma non elegge domicilio da nessuna parte perché mantiene magari la prima abitazione o semplicemente perché è nato all'interno del regno unito questo è il cosiddetto domicile by birth cioè per per nascita quindi lui non può o con estrema difficoltà può decidere di eleggere domicilio di perdere quello quello inglese questo ha degli effetti devastanti soprattutto sull'ineritance tax cioè sulla sulla tassa di successione e donazione perché una volta rientrato dopo 30 anni che ha lavorato per la banca william rientra in uk a quel punto non ha mai rinunciato al suo primo domicilio che è quello per nascita william non potrà mai applicare il rest non dom e quindi sarà tassato sulle imposte di donazione e successione quando un giorno morirà e lascerà tutti i suoi averi ai suoi figli o comunque a chi gli pare e piace per noi expat è un po più semplice non assumere il domicilio e rimanere rest non dom è più semplice perché tecnicamente ci basterà non richiedere un passaporto all'interno del regno unito soprattutto non sposare un inglese quindi questo è un consiglio che do in generale a tutti i miei clienti uomini o donne che siano mi raccomando non vi sposate mai è l'ultima cosa da fare in ottica di in ottica di pianificazione fiscale ribadisco nel 2023 si stanno si sta pensando all'abolizione di questa di questa legge che ormai dura dalla notte dei tempi io non credo succederà sono le solite diatribe mediatiche per tenere buona la popolazione ma staremo a vedere noi nel tanto rimarremo sempre sul pezzo io sono luca taglielatera questo è il canale tax planning internazionale se ti è piaciuto questo video ti invito a lasciare like ed iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le notifiche noi ci rivediamo nel prossimo video